la zona lì l'abbiamo liberata non lascati l'enemone cutter through the swamp if we fall so will our lord Siamo stati anche fortunati Allora, prima di andare avanti Che ci sono mostri Infimi Brutti Beh Accetta Voglio fare la preghiera Poi poi la voglio andare al paese Io ho bisogno di Ah, ecco cosa serve Usa l'abilità Qua L'abilità Cosa mentiamo? Questo? Questo? Ci sono La scuola d'armo vai ormiamo un po' così siamo in trovare Ah, capito Ok 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 E vai Ti strutta adesso Sono un po' pesante Ti strutta adesso Ti strutture Ti strutture Ti strutture Ti strutture Una impugnatura Maledetto Mi ha ucciso Porca miseria Vabbè la prima morte Maledetto arciere Lassopra Non sono così lontano Come credevo Bisogna eliminare per forza Quello lì Un maledetto Cosa Un maledetto 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 Fandati vedere qua Maffine, sito. Allora. Ma guarda un po Ma guarda sto infame Porca vacca Mannaggia questo Scusami ma posso far raggiungere? Scusami 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 Ho proprio messo in una posizione impossibile da prendere però eh Scusami Come si risponde l'armi Hideyoshi così rapidamente? È come se sono più umani Scusami Scusami Non lo darci Cinto del veterano Mino non so che dice un maledetto yukai ora non ora non ho esplorato qua sopra dove sono queste rinforzazioni? ho bisogno di aspettare la scuola per la scuola per la scuola Ma dai Mi hanno trovato un sacco di roba Guanti delle rede C'è il traghettatore Qui d'attacco acqua Ok Esorcista Traghettatore Falcione Del cacciatore Mi piace Mi piace E' interessante sapere dove andare qua Chi pulses can be used to recover your key and purify the miasma that you're Kyra Mi piace Mi piace Mi piace Porca di quella vacca Mi ha fatto prendermi sto infamone Ma vai a cagare Ho provato a fare la roba Abbattuto da Enki Eh sì, non è facile la cosa Mi racerco il quadrato Mi racerco il quadrato